Novena San Francisco Settimo giorno Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amin. O Dio, veni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amin. Come San Francisco, seppe sopportare le avversità. Dopo la sua conversione, San Francisco dovette superare grave difficoltà, ma seppe reagire con molta fermezza nelle tribolazioni. Seppe conservare la gioia dello Spirito Santo, nonostante le avversità. Quando Francesco decise di vivere secondo il Vangelo, si trovò davanti la violenta opposizione dei parenti. Il Padre, considerando pazzia l'abbandono delle cose del mondo per il servizio di Cristo, cominciò a perseguitarlo, come nace. Lì, Santo, dopo aver pianto e pregato, ebbe luce e forza da Dio, tanto che seppe affrontare con gioia anche gli improperi. Anche i suoi compagni di un tempo, vedendolo tanto cambiato e prostrato dalla penitenza, lo insultavano e gli scagliavano addosso il fango e le pietre della strada, perché lo ritenevano pazzo. Francesco sopportava con gioia o in pena, pensando alle sofferenze e all'incompreensione sopportate da Gesù, il Figlio di Dio. Più tardi, si vide combattuto da alcuni dei suoi frati, che lo ostacolavano, pretendendo di modificare la regola. Egli voleva applicare letteralmente il Santo Vangelo. Ma i frati più letterati e sapienti prentedevano dimitigare i punti più rigidi, quelli che richiedevano maggior penitenza e sacrifici per l'imitazione entregale della vita di Gesù. E fu così, grande e forte, la loro opposizione che Francesco fu costretto a dimettersi dal governo dell'ordine. Egli superava con molta umiltà tali contrasti e diceva, «È segno di grande amore quando il Signore punisce bene il servo suo di tutti i suoi difetti in questo mondo, affinché non ne sia punito nell'altro. E io sono pronto a sostenere allegremente o in pena e o in avversità che Tu, oh Dio, mi vuoi mandare per i miei peccati». San Francesco riuscì a superare le difficoltà con umiltà e letizia. Proponimento Impegniamoci ad accettare anche le opposizioni dei più vicini e dei più cari quando Dio ci chiama per una strada che essi non condividono. Accettiamo con umiltà i contrasti nell'ambiente in cui quotidianamente viviamo, ma difendiamo con fermezza quanto ci sembra utile per il bene nostro e di coloro che ci stanno vicino e soprattutto per la gloria di Dio. Padre nostro che sei nei Cieli, sia santificato il Tuo nome, venga il Tuo regno, sia fatta la Tua volontà come in cielo o così in terra. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con Te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del Tuo Seino Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. amin. Amin.